Jonathan Rossini dopo una decina d'anni ritorna a vestire la maglia blu cerchiata, che sensazione? È un'emozione indescrivibile, come ho detto ieri a presentazione, ringrazio il Presidente che ho dato la possibilità di rivestire questi colori che per me, per la mia città, mi hanno adottato quando ero 16 anni, a Genova ho conosciuto mia moglie, ho avuto due figli, ho la mia base a Genova, quindi sono onorato e contento di essere ritornato. Ancora una volta l'obiettivo è di riportare nella massima serie questi colori. L'obiettivo è quello, abbiamo un gruppo eccezionale con dei professionisti, peccato che il mondo fusse al direttante, perché c'è dietro un lavoro, un'organizzazione pazzesca, i ragazzi salendo due volte a settimana con una professionalità che non ho mai visto, quindi ora speriamo di raggiungere l'obiettivo.